Ha riaperti i bagni del centralissimo parco giochi di via Vittorio Emanuele a Como. Chiusi da tempo a causa di ripetuti vandalismi, dopo una manutenzione ordinaria, straordinaria, grazie al progetto solidale attivato dall'assessorato alle politiche sociali del Comune in collaborazione con il Consorzio Mestieri Lombardia e con la cooperativa Nuova CLS, i bagni sono stati riaperti questa mattina. I servizi saranno presidiati ogni giorno durante l'orario di apertura, dalle 8.30 fino alle 20.30. Tra gli addetti impiegati al controllo e monitoraggio dei bagni, riconoscibili da un apposito tesserino. Un progetto sperimentale a sostegno della marginalità e della durata di tre mesi che metterà in campo un presidio fisso per evitare nuovi vandalismi e al tempo stesso offrire alle persone che hanno sottoscritto il progetto un ulteriore passo in avanti nel proprio percorso all'autonomia per un graduale reinserimento nel mondo del lavoro.